Ciao a tutti e bentornati sul canale di Filo e Stitch oggi andiamo a fare un tutorial per realizzare questa borsa mare io l'ho realizzata pensando di utilizzarla quando si potrà andare in spiaggia la borsa l'ho fatta volutamente di dimensioni grandi proprio perché deve contenere almeno l'asciugamano o comunque un ricambio dei costumi proprio in previsione di una bella vacanza al mare quindi vi do le misure di come l'ho fatta grande io allora è larga 48-49 cm viene alta 36 cm e come potete vedere lo spessore della borsa è bella ampia perché è di 16 cm quindi diciamo che è una bella borsa ampia con i manici in corda che è ovviamente fornita di cerniera perché l'ho voluta mettere, io ho voluto fare la cerniera e in più all'interno ha una tasca aperta e una tasca con la zip per la borsa esterna avremo bisogno di due pezzi di stoffa della misura di 52 cm di larghezza per 46 cm di altezza poi avremo bisogno sempre per l'interno della fodera anche questa, io la farò rosso all'interno avremo bisogno di due pezzi sempre di 52 x 46 cm di altezza ok? e sempre due pezzi e infine sempre per il corpo borsa avremo bisogno di due termoindurenti sempre della misura di 52 x 46 cm di altezza per l'interno invece, per le tasche interne andremo a fare una tasca interna aperta e io ho utilizzato due pezzi di stoffa della misura di 22 x 27 cm quindi 27 x 22 cm ne avremo bisogno di due pezzi poi avremo bisogno per la tasca interna con la zip di un pezzo di 26 cm di altezza per 50 cm di lunghezza e per la tasca interna con la zip avremo poi bisogno di una zip questa è una zip normale da 23 cm io l'ho presa rossa per rimanere in tinta poi avremo bisogno per la chiusura della borsa di una zip da 60 cm circa e questa è un po' più lunga e poi quindi la taglieremo avremo bisogno di un pezzettino di stoffa di 6 x 10 cm che ci servirà per fare la copertura della zip in questa maniera e infine avremo bisogno di due pezzi di stoffa esterna e due pezzi di stoffa interna di 44 cm per 7 cm di altezza perché la utilizzeremo da mettere sopra la zip e vedremo poi come insieme e anche per queste fasce di 44 x 7 cm avremo bisogno di due strisce di termoindurente e questo è il materiale che utilizzeremo io per tagliare la stoffa ho utilizzato ovviamente la mia squadra per i patchwork questa è una squadra di 45 cm per 10 cm un paio di forbici ovviamente che vengono utilizzate solo ed esclusivamente per la stoffa poi durante la lavorazione ci serviranno gli spilli e se volete invece non utilizzare gli spilli ci potranno essere utili queste mollettine io ho comprato questa corda che verrà utilizzata per i manici di questa ne avremo bisogno circa due pezzi da 65 cm allora cominciamo ad assemblare la nostra borsa adesso cominciamo a mettere insieme la parte interna della borsa quindi andremo a sistemare la parte della fodera ora cominciamo a fare la tasca quindi io prenderò i due pezzettini di stoffa che vi avevo detto che sono 22 x 27 cm metterò dritto su dritto e andrò a fare una cucitura lungo tutti i bordi lasciando però un pezzettino di apertura qui per poi poterlo rigirare qui fermerò la stoffa con degli spilli segnerò con due spilli o comunque con la matita un'apertura dove non andrà cucita quindi da qui a qui non andrà cucita e farò tutto il giro della tasca ok dopo aver cucito la tasca in questo modo si vanno a tirar via i fili in eccesso e poi andremo a questo punto a voltare la tasca allora prima di voltare la tasca importante dovremo andare a rifinire gli angoli quindi andremo a tagliare gli angoli della tasca in modo che comunque stiamo a pochi millimetri dalla cucitura ok e a questo punto andremo a rivoltare la tasca altro lavoro che possiamo fare prima è eventualmente stirare il lea per l'apertura della parte in basso dove non è stata cucita in modo che comunque poi quando dovremo andare a rigirare la tasca sarà perfetta quindi io adesso prendo il mio asse da stiro vado ad aprire le cuciture ci vediamo qui una volta che ho girato la tasca allora ecco qui io ho stirato la mia tasca come vedete ho girato anche le cuciture e adesso posso andare a girare e andrò a fare una cucitura di ribattitura più che altro decorativa lungo tutta la parte alta ok mentre la parte in bassa al momento rimarrà aperta ecco qua la tasca cucita come vedete qui c'è la ribattitura che ho fatto gli ho dato una bella stirata e la parte sotto rimane ancora aperta e questa è una prima tasca ora ci occupiamo della seconda tasca che è un po' più complicata perché andiamo a fare una tasca con la zip ok quindi ovviamente avremo bisogno del nostro pezzo di stoffa che è esattamente 26 cm per 50 però dovremo prendere la parte della stoffa interna della fodera allora innanzitutto andremo a dare una stirata al nostro stoffa dopodiché prenderemo le misure per applicare la tasca con la zip dopo aver stirato la mia parte di stoffa quindi un lato dell'interno della stoffa vado a segnarmi la metà della stoffa in modo che poi posso posizionare correttamente la tasca interna prendo una distanza di 13 cm perché comunque tanto la mia borsa mare è bella grande e poi prendo quella che sarà la tasca zip anche qui farò in questa maniera andrò a piegare a metà la stoffa della tasca mi segno la metà ok e allora prenderò una misura di 3 cm si facciamo anche 4 cm sempre nel centro ok e praticamente farò combaciare questa con questa dopo aver agganciato la stoffa alla fodera della borsa e aver segnato i 3 cm di distanza cosa vado a fare io ho preso avevo già fatto questa dima a forma in questo modo proprio per facilitare quando vado a fare le cerniere quindi qui è la metà quindi posiziono la metà sulla metà della stoffa e con una penna cancellabile per i tessuti se ce l'abbiamo ma utilizzo la matita e mi segno praticamente l'interno della dima la riporto sulla stoffa mi faccio qualche segno poi lo completo con il righello ok quindi a questo punto prendo il mio righello e finisco di tracciare le righe adesso ho la sagoma di dove devo andare a tagliare però farò ancora un altro piccolo passaggio allora segno un centimetro e un centimetro mi devo posizionare sulla metà di questo centimetro perché questo è largo un centimetro e da questa metà io parto e vado verso gli angoli e farò così uno e uno due la stessa cosa la faccio da questa parte quindi prendo la misura di mezzo centimetro che è qua e collego gli angoli adesso cosa faccio allora innanzitutto vado a cucire con la macchina da cucire il perimetro di questo rettangolo magari ve lo avvicino così vedete un po' perfetto allora adesso vado a cucire il perimetro di questo rettangolo con la macchina da cucire dopodiché una volta che è cucita io dovrò andare a tagliare con uno scucino questo pezzo in mezzo in modo da poterlo aprire ecco qua ho cucito la stoffa quindi come vedete la stoffa adesso è cucita la tasca è cucita non si vede moltissimo purtroppo però ecco vi faccio vedere un po' così adesso cosa devo fare devo andare a tagliare in mezzo per poter rigirare la stoffa la tasca scusate allora allontano un pochino come faccio prendo la metà della stoffa in questa modo gli do un taglio con la forbice e poi prendo il mio scuciasole e vado a tagliare praticamente la stoffa fino a questo punto a questo punto qui che avevamo segnato prima quindi lo faccio vedere prima bene vedete avevamo segnato questo triangolino quindi fino qui lo vado a tagliare e anche di qua faccio la stessa cosa lo taglio fino qui e poi invece di andare dritto li taglierò in diagonale in modo da avere un'apertura corretta per poter girare la stoffa io vado con la forbice che comunque mi trovo comoda arrivo qui taglio la stoffa ovviamente attenzione non tagliare la parte cucita e la stessa cosa la faccio da quest'altra parte benissimo fatto questo passaggio io devo girare all'interno la stoffa della tasca quindi girerò in questa maniera giro tutto il mio lavoro lo prendo quindi a questo punto da rovescio e andrò a fare un lavoro con il ferro da stiro dovrò stirare questa parte in modo da appiattire bene le cuciture e in modo che da questa parte non si vede per poi poter cucire sopra la cerniera ed ecco stirata la mia a questo punto cosa facciamo inseriamo sotto la cerniera voilà andiamo a fermare con gli spilli e poi procederemo alla cucitura fermo la cerniera in questo modo così se non volete fermarla con gli spilli potete sempre imbastire la cerniera e a quel punto poi una volta imbastita si va a cucire a macchina ecco fatto io ho spillato tutta la cerniera ora vi ricordo che va montato il piedino delle cerniere quindi non va mantenuto il piedino standard ma dovremo montare il piedino della cerniera e quindi a fare tutto il perimetro della cerniera per poterla fissare ed ecco la cerniera cucita quindi vedete dietro è stata cucita ora andremo a tagliare questo pezzo in più allora scusatemi dietro come vedete è stata cucita andremo a tagliare questo pezzo in più che non ci servirà e davanti la tasca risulta in questo modo ok adesso quindi andiamo a girare il lavoro innanzitutto andiamo a tagliare via questo pezzo di cerniera che non ci serve più e lo buttiamo cosa facciamo adesso allora andremo a così si vede meglio ripieghiamo in questo modo la stoffa quindi farla arrivare proprio sopra ok quindi prenderemo gli spilli e andremo a spillare la tasca solo la tasca quindi non dovremo prendere la stoffa sotto perché poi dovremo procedere alla cucitura di questo pezzo di stoffa la stoffa la giriamo sul davanti pieghiamo la stoffa in questo modo in modo che non vada ad intralciarci con la chiusura dei laterali facciamo così pieghiamo su se stessa e anche questa la pieghiamo su se stessa e la fermiamo con o con degli spilli che è meglio perché poi dovremo passare sotto macchina quindi magari ci dà un po' fastidio o con degli spilli o se no con delle mollettine l'importante è che teniamo fuori dalla macchina da cucire questo pezzo di stoffa quindi io adesso con la macchina da cucire farò questo cucitura una due e tre ecco qui la cucitura fatta ho fatto tutto il giro quindi a questo punto vado a tagliare i fili di cucitura in eccesso vado a rifinire un attimino la stoffa benissimo a questo punto apro la mia fodera e ho la mia tasca finita perché se io vado ad aprire voilà ho la mia tasca ecco qua si vede la tasca interna quindi la tasca interna con la fodera è terminata diciamo che questo è il passaggio più difficile di tutta la borsa quindi come vedete è fattibilissimo allora io adesso prendo il ferro da stiro gli vado a dare una stirata in modo che comunque sia più a posto possibile e poi vado ad attaccare sull'altro pezzo della della fodera l'altra tasca che avevamo fatto inizialmente quindi che faccio anche qui apro la mia bella fodera piego a metà quindi trovo la metà della fodera voilà quindi apro e ce l'ho a metà vado a piegare la mia tasca a metà in modo che trovo anche qui la metà e la vado a sistemare più o meno questa altezza tanto comunque è poi è bella profonda lo stesso anzi no facciamola qua ok la facciamo a questa altezza che sono circa 10 facciamola 10 centimetri dal bordo ok quindi vado a spillarla e procedo a fare una cucitura sui tre lati in modo da tenere fermo la mia tasca e questa parte che era aperta in automatico verrà cucita nel momento in cui io vado a cucire la mia tasca quindi allora dopo aver sistemato le due fodere da una parte e dall'altra cosa facciamo andiamo ad unire le due fodere dritto contro dritto quindi dritto contro dritto le vado a spillare e andrò a cucire i laterali ecco qui cuciti anche i laterali della fodera ora ultimo passaggio per la fodera è questo dobbiamo tagliare dei quadrati di 7x7 dal fondo in modo da dare spessore alla borsa i centimetri non partono dal bordo della stoffa nel laterale ma dalla cucitura quindi io prenderò 7x7 e li segno con una matita in questo caso ma i 7 cm dicevo partono dalla cucitura e non dal dal limite della stoffa stessa cosa farò di qua ecco qua adesso vado a tagliare questi due pezzettini di stoffa e poi cucire gli angoli e la fodera della nostra borsa è terminata ed ecco qui finita la parte della fodera della borsa mare come vedete come vedete cucito la parte qui sotto quindi dopo aver ritagliato i rettangolini ho unito le due parti e le ho cucite quindi la parte interna quindi la fodera della borsa è terminata e come vedete al suo interno è così da questa parte c'è la tasca e da quest'altra c'è la tasca e da quest'altra c'è la tasca con la zip però diciamo che è un po' più veloce questa parte perché non dovremo fare altro che innanzitutto dovrò ritagliare ok innanzitutto dovremo andare a stirare su ognuno delle due delle due stoffe della fodera esterna il termoindurente dopodiché andranno cuciti i laterali e la parte sotto andrà fatto il quadratino 7x7 come quell'altro di prima e quindi chiusa allora ecco fatto che ho cucito i laterali e qui sotto ok adesso cosa dobbiamo andare a fare come per la fodera dobbiamo ritagliare i quadrati quindi prendo la mia riga quadrata con l'angolo e da una parte e dall'altra andrò a segnare un quadrato di 7x7 quindi 7x7 partendo però dalle cuciture quindi non dal filo della stoffa ma dalle cuciture a questo punto vado a tagliare questi due quadrati di stoffa e voilà e a questo punto andrò a cucire questi due pezzi quindi apro la mia borsa faccio combaciare le cuciture e poi spillo e vado a cucire e faccio la stessa cosa da questa parte quindi tiro apro bene la borsa faccio combaciare le due cuciture ed ecco qui anche questo pezzo cucito innanzitutto possiamo vedere che la nostra borsa mare sta prendendo forma allora vedete qui la cucitura comunque vedete è stata fatta bene perché è stata le due righe coincidono come anche qua quindi diciamo che abbiamo cucito bene allora adesso abbiamo due possibilità o la borsa la lasciamo aperta così in modo che comunque possa essere poi utilizzata come borsa mare e quindi ha questa bella ampiezza o altrimenti si può anche provvedere a montare la cerniera ed eccoci qua che abbiamo attaccato la cerniera come potete vedere io adesso apro la cerniera ed è attaccata ai due pezzi di stoffa adesso cosa dobbiamo fare dobbiamo andare ad attaccare questo pezzo alla scocca esterna diciamo della borsa quindi andremo a prendere la nostra borsa allora dobbiamo mantenere a dritto la nostra borsa innanzitutto troviamo la metà della nostra borsa quindi pieghiamo la borsa a metà e facciamo un piccolo tagliettino ok per la metà infatti qui abbiamo segnato la metà e la metà e la stessa cosa dovremmo fare qua piegare a metà segna e segnarlo in qualche modo quindi tagliamo un piccolo tagliettino la stessa cosa dobbiamo farlo da questa parte quindi andiamo a piegarlo a metà e facciamo un piccolissimo taglio così sappiamo che è gioco quindi a questo punto cosa facciamo prendiamo dritto contro dritto sulla metà e andiamo a spillare il tutto quindi metà contro metà ok e spilliamo questa parte una e una due la stessa cosa poi faremo dall'altra parte della borsa e ora andremo a cucire a fare una cucitura qui e una cucitura qui per a se sta per cucire la cerniera all'involucro della borsa e voilà abbiamo attaccato anche questo e abbiamo e ho messo anche questo fermo alla cerniera non ho fatto altro che prendere un pezzettino di soffa infilare cucire i lati infilarlo e poi cucire sui lati niente di grosso adesso la borsa è a buon punto cosa dobbiamo fare dobbiamo a questo punto inserire la fodera quindi la borsa la dobbiamo tenere dal lato dritto in questo in questo modo poi prendiamo la fodera e andiamo ad inserire la fodera nella borsa una cosa allora inizialmente non avevo previsto di fare la cerniera qui sotto qui sopra quindi avrei lasciato aperto un pezzetto del bordo sopra per poi chiudere per poter poi risvoltare la borsa siccome ho deciso di aggiungere la cerniera non ho un punto dove risvoltare la borsa quindi a metà adesso prendo la fodera in una parte laterale della fodera andrò a scucire leggermente di una decina di centimetri la fodera in modo che così poi avrò lo spazio per rigirare quando tutta la borsa sarà cucita tiro via il filo ok allora a questo punto cosa faccio vado ad inserire la borsa finita nella fodera ok cosa faccio vado a far combaciare le cuciture quindi cucitura laterale di questa cucitura laterale di questa e spigliamo poi dall'altra parte cucitura laterale cucitura laterale spigliamo ora dopo aver fermato le parti esterne posso andare a puntare tutto il la fodera interna e quindi fermo tutta la fodera interna con degli spilli e poi procederò a cucire a macchina allora io finisco di spillare e poi procederò a cucire lungo tutto il perimetro allora dopo aver cucito tutto intorno a questo punto dobbiamo solo girare la borsa quindi andiamo a prendere la parte che abbiamo tenuto scucito e piano piano con calma rigiriamo il tutto abbiamo rigirato la borsa ora con una stecca tiro fuori bene gli angoli a questo punto vado a stirare ovviamente la fodera interna il pezzo esterno e poi farò una cucitura a mano di questa parte che sono andata a scucire prima e lo farò con un punto nascosto allora ho fatto tutta la borsa quindi la borsa è completamente finita anche perché poi ho fatto una ribattitura lungo tutto il giro della borsa in modo da tenere fermo bene le parti che poi chiuderanno la borsa manca l'ultimo pezzettino i manici allora per i manici ho deciso di utilizzare questa corda e quindi fare i manici in corda perché mi sembrava che facesse sembrare la borsa più estiva quindi adesso vanno come fare i manici semplicemente io andrò con la ricamatrice a fare degli occhielli sia da una parte che dall'altra in modo che poi io possa infilare la corda e avere i miei manici allora innanzitutto per vedere dove fare gli occhielli prendo la mia borsa la piego a metà per trovare appunto la metà e in qualche modo ci segniamo la metà che è qua e qua esatto ok adesso cosa faccio prendo una distanza sto al centro e prenderò 10 cm di distanza dal centro e come altezza farei un bel 6 cm allora 6 cm è qua ok a questo punto io prendo 10 cm a destra e mi segno il punto 10 cm a sinistra e mi segno il punto quindi poi controllo che siamo a 6 cm anche qui va bene e 6 cm anche qui e va bene e la stessa cosa faccio da quest'altra parte quindi dal centro prendo i miei 6 cm in altezza e mi fermo qui non è un problema se puntiamo con la penna perché tanto questa è quella che si cancella stirando quindi uno qui e uno qui poi controlliamo l'altezza il 6 cm vedete questo e 6 cm è questo perfetto benissimo a questo punto io andrò a intelaiare la mia prendo il telaio piccolino mi servirà anche lo stabilizzatore quindi andrò a intelaiare questa parte e poi quest'altra parte tenendo il mio punto al centro in questo modo in modo che verranno fatti i 4 occhielli una volta fatti i 4 occhielli andremo a ritagliare l'interno della stoffa in modo da tirar via la stoffa in eccesso e a quel punto inseriremo i manici eccoci tornati alla nostra borsa allora innanzitutto vi avvicino un po' ok così vi faccio vedere gli occhielli che ho creato con ecco vi faccio vedere gli occhielli che ho creato con la ricamatrice come vedete eccoli qua adesso cosa devo fare rimane da tagliare praticamente la innanzitutto i fili se ci sono fili in eccesso poi vanno un attimino rasati e sistemati e a questo punto va fatto il buco qui in mezzo come vedete quindi che cosa faccio innanzitutto piego la stoffa in questa maniera gli vado a dare un taglio magari con una forbice ok e adesso con le lame con queste lame andrò a ritagliare la stoffa qui in giro al al ricamo e niente poi una volta che ho fatto il taglio a questo punto dovremo inserire la corda ed ecco finita la borsa mare come vedete ho inserito i manici in corda eccoli qua i manici in corda quindi la borsa è terminata qui c'è l'apertura qui abbiamo la tasca interna da quest'altra parte abbiamo la tasca con la zip che può essere utilizzata per metterci i documenti i portafogli la richiudiamo ecco qua la nostra borsa mare io spero che questo tutorial vi sia piaciuto vi invito a iscrivervi sul mio canale che è filo e stitch e attivare la campanella e mettere tanti like se vi è piaciuto il video e ci vediamo al prossimo tutorial grazie ancora e ciao 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 ciao